I tifosi tornano allo stadio per la finale di Coppa Italia mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida è tra Atalanta e Juventus e i tifosi ammessi per la prima volta al pubblico sugli spalti sono 4.300, ovvero il 20% del totale come stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico. Un ritorno in totale sicurezza, per questo la Lega di Serie A lancia l'app gratuita Mitiga. Dopo averla scaricata occorre confermare l'autodichiarazione dello Stato di Salute a partire dalle ore 21 del 17 maggio 2021, effettuare un tampone 48 ore prima della partita esclusivamente presso uno dei centri convenzionati Mitiga, presentarsi allo stadio muniti di documento di identità, idonei dispositivi di protezione individuale, biglietto e smartphone con QR code Mitiga. In alternativa potranno accedere allo stadio coloro che hanno completato la procedura di vaccinazione o sono in possesso di un certificato che attesti la guarigione da Covid-19 in epoca successiva al 19 novembre 2020.